Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul nostro canale, io sono Amelia e quello di oggi è un video dove parliamo di fumetti e dove acquistarli principalmente perché mi è stato chiesto in un commento di parlarne sotto un video degli ultimi, adesso non mi ricordo quale e in più perché ho visto che in questa settimana sull'Instagram ci sono stati un casino di problemi con le spedizioni, i cazzi e mazzi quindi ne parliamo un attimino insieme e vediamo di aiutarci Allora partirei dalla questione delle fumetterie, nel senso che dalla mia secolare esperienza vi posso dire che non è che io abbia frequentato 50.000 fumetterie che ho un'esperienza, che le ho viste tutte, ho il timbrino fedeltà di ogni cosa Però quello che posso dire è che tanto fa anche la competenza di chi sta in fumetteria e la cortesia di chi insomma c'è dietro il banco Nella mia vita in realtà ho frequentato soltanto due fumetterie in maniera abbastanza importante Ed erano entrambi a Milano perché sono le più vicine a casa mia, però ovviamente Milano sta a 30 km da casa mia quindi prendere i mezzi, andare fino a là, c'è spatti Comunque c'è stato questo periodo fantastico della mia vita in cui frequentavo Milano tutti i giorni a causa ovviamente delle scuole e frequentavo una fumetteria che era piuttosto vicina alla sede della mia università dalle parti di Porta Venezia se non mi ricordo male, vabbè ma non mi ricordo neanche come si chiama sta fumetteria Comunque era piuttosto grossa, era una di quelle fumetterie che si vende i fumetti però principalmente si sostenta di altro e l'ho frequentata praticamente, io non dico che ci andavo tutti i giorni però dopo i corsi però cioè praticamente almeno almeno due volte alla settimana ci andavo e sì non è che fosse una di quelle fumetterie che ci aveva il mondo però per i fumetti che volevo io alla fine era abbastanza comoda l'unica cosa che effettivamente un pochino mi dava fastidio era che il tizio che c'era dentro questa fumetteria era di un freddo, era poco professionale direi più che altro mi è capitato anche spesso di, che ne so, essere veramente io da sola in negozio con lui e che ne so, fargli una domanda e questo qua mi rispondeva dopo due o tre volte che gliela ripetevo cioè proprio mi ignorava come se non ci fosse un domani io ho appena detto non fate casino che devo girare il video, vabbè comunque, dopo mesi e mesi e mesi che io ci andavo almeno due volte alla settimana sono invece andata nel weekend non mi ricordo se era un sabato o una domenica comunque ero uscita con degli amici nel weekend e essendo lì vicino ho detto dai passiamo in fumetteria e c'era un altro, c'era un altro tizio che non mi aveva mai vista giustamente nella sua vita e come prima cosa mi ha chiesto se volevo fare la tessera a fedeltà perché mi avrebbe dato lo sconto di non mi ricordo quanto era, 10-15% sui gli acquisti cioè io dico, ascoltami ma no questo qua che non mi ha mai visto mi chiede se voglio fare la tessera e te che mi vedi da quasi sei mesi, due volte alla settimana non mi caghi nemmeno, allora sei stronzo e dopo quella volta lì ho deciso che dovevo assolutamente cambiare fumetteria in più, in quel periodo era successa anche un'altra roba con J-pop quindi vabbò, mi sono cercata un'altra fumetteria un'altra fumetteria sempre abbastanza vicina a dove avevo cambiato i corsi ovviamente il semestre era cambiato quindi anche i corsi e le sedi dell'università quindi la sede dove stavo avendo un corso stavo facendo un corso nella sede di Sant'Alessandro dell'università degli studi e lì vicinissimo c'è la fumetteria di Angolo Via Torino che è una Super Gulp e io ho cominciato ad andare lì a comprare la roba cioè la roba, a comprare la roba e da quel giorno praticamente io ho abbandonato quell'altra e mi sono completamente affidata a Super Gulp lì di Via della Palla dove sono sempre stata trattata veramente bene mi hanno sempre tenuto da parte i fumetti senza problemi mi hanno sempre aiutata un sacco hanno anche veramente tanta roba piuttosto rara magari... oh sorry arrivano serie in blocco e spesso mi chiedevano se le volevo e non ce le avevano neanche esposte però siccome che ero io mi chiedevano se le volevo io sono sempre stati davvero molto gentili e questo per quanto riguarda le fumetterie purtroppo appunto vivendo un po' lontano da Milano quindi sono 30 chilometri più o meno se non ci vado tutti i giorni difficilmente mi riesce facile ecco passare dalla fumetteria anche se a tutt'oggi se mi capita di andare a Milano un giro lo faccio e li lascio giù uno stipendio perché comunque in qualche modo mi sento obbligata a come dire sovvenzionarli comunque adesso principalmente acquisto online online e praticamente solo su Amazon e su Pop Store perché mi trovo comoda mi trovo comoda tra l'altro Amazon vabbè ovviamente sono cliente Prime quindi tutte le serie Star, J-Pop non ho fatto problemi per quanto riguarda Pop Store sì l'unico problema che hanno è la lentezza però anche loro dal punto di vista dell'assistenza al cliente sono stati veramente eccellenti con me nel senso che mi hanno sempre seguita moltissimo e in più quando c'è stato un problema con la mia carta di credito loro veramente mi sono stati dietro veramente tanto 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 e tutte le volte mi sentivo anche in dovere di scusarmi perché comunque ero un disagio per loro perché effettivamente i miei pagamenti andavano un po' sì e un po' no e quindi loro sono sempre stati veramente molto garbati da quel punto di vista certo poi ovvio ci sono quei momenti in cui dici fischia ma Pop Store ci può mettere tre settimane a mandarmi un pacco Pop Store ci può mettere due settimane a rendersi conto che non ha quel fumetto lì da mandarmi e mi deve fare il rimborso però sinceramente non è che sono una di quelle persone che ha bisogno di avere il fumetto esattamente nel giorno in cui esce quindi chi se ne frega cioè io mi trovo bene con loro ormai praticamente sono tre o quattro anni che acquisto da loro non ho mai avuto grossissimi problemi anzi sono sempre stati anche molto cortesi per quanto riguarda le case editrici ho acquistato sul sito di Panini e sono... cioè lo so che io parlo sempre male di Planet & Company ma in realtà il sito di Panini funziona benissimo cioè mi sono sempre trovata benissimo quando ho acquistato sul loro sito mi sono arrivati i pacchi veramente in due giorni nemmeno mi sono arrivati sempre i fumetti in condizioni perfette quindi veramente non ho nulla da dire per quanto riguarda la... Star non ho mai acquistato su Star Shop forse... no Star Shop non l'ho mai sfruttato una volta ho cercato di acquistare sul sito J-pop ma è stato un casino atroce veramente ma parlo ancora di cinque o sei anni fa addirittura nel periodo di Natale c'era stata una promozione con Anime Click per cui davano una specie di... buono da spendere sul sito J-pop per acquistare le loro serie e io all'epoca avevo qualche volume sparso di Nabari perciò sfruttando questo buono avevo praticamente ordinato tutti quelli che mi mancavano sul sito di J-pop che mi aveva scalato appunto non mi ricordo se erano 20 o 30 euro addirittura dalla... insomma dall'importo finale ed era stato un macello assurdo perché all'epoca io non potevo tenere... non avevo una carta di credito adesso non mi ricordo non avevo forse una carta di credito adeguata per i pagamenti o una roba del genere e quindi in pratica avevo dovuto per forza fare il bonifico e lì ci avevano messo due settimane a rendersi conto che la mia carta non era adeguata poi ci hanno messo due settimane a darmi l'ok per il pagamento tramite bonifico anziché carta di credito ci hanno messo altre due settimane a notificarmi che il mio pagamento era andato a buon fine e dopo praticamente eravamo già... questa cosa è cominciata a Natale ed è finita che era circa marzo e mi è stato detto guarda che lo sappiamo che tu hai ordinato tutti questi cazzo di volumi ma praticamente tutti i volumi 6 di Nabari a nostra disposizione nei magazzini sono danneggiati mi ha scritto una roba tipo ci sono state delle alluvioni nel magazzino ma che cazzo viene prima a me? vabbè insomma praticamente mi hanno fatto un rimborso per il valore del volume 6 di Nabari e niente mi hanno mandato gli altri ma cioè ci abbiamo messo tre mesi praticamente e mai più ho acquistato sul sito Jpop adesso non so come funzioni il volume 6 di Nabari tra l'altro poi alla fine l'ho recuperato nella famosa Super Gulp a Milano perché naturalmente io l'avevo cercata nell'altra fumetteria degli stronzi ma come dire loro non ce l'avevano quando glielo ho chiesto cascavano dalle nuvole come per dire non so neanche di che cacchio tu stia parlando e niente quindi quella è stata proprio la molla che mi ha fatto andare in un'altra fumetteria in maniera definitiva e in Super Gulp ovviamente invece l'ho trovato immediata subito vabbè questo per quanto riguarda appunto le case editrici ah poi una volta sempre con Anime Click se non mi ricordo male avevano fatto una specie di convenzione con Flashbook per cui in pratica Flashbook aveva messo in vendita per un tot di ore alcuni volumi di autori in blocco e io avevo recuperato tutti i volumi dell'autrice Ayuko quella di The Earl and the Fairy avevo acquistato in blocco tutti i suoi volumi della Flashbook e quella volta lì mi sono trovata benissimo con Flashbook nel senso che avevo fatto l'ordine ma circa tipo mezzogiorno e alle 11 del giorno dopo ce le avevo già in casa quindi veramente sono stati di una cortesia pazzesca se no dov'è che mi è capitato di acquistare vabbè ebay però lì in realtà su ebay io acquisto soltanto a proposito di Flashbook che mette in vendita la sua roba su ebay cioè io dico 2020 vabbè comunque su ebay invece acquisto principalmente le serie già complete quindi quelle un po' rare quelle che non ci avevo sbatti di recuperare singolarmente ogni mese cose del genere e buona ah no per quanto riguarda anche i libri una volta avevo cercato di ordinare anche su IBS IBS di cui però non ho deciso di non fidarmi mai più perché mi è arrivata la notifica del pagamento sulla carta cioè l'email di notifica del pagamento andato a buon fine sulla carta di credito dopo ovviamente io avevo altre cose per la testa in quel periodo storico quindi dopo circa un mesetto mi sono resa conto che non avevo ricevuto alcun tipo di notifica sul mio povero pacco e niente mi sono chiesta che cosa fosse successo insomma ho contattato l'assistenza clienti per sapere un po' dove fosse finito e mi è stata data una risposta davvero molto maleducata della serie una roba come se non ti è ancora arrivata una notifica perché evidentemente non ce l'abbiamo disponibile e ti si sono stati rimborsati i soldi proprio con questo tono perciò ho deciso che IBS non mi vedrà mai più neanche dipinta questa cosa è successa tipo l'anno scorso però ho scoperto che non è che sia proprio migliorata la situa è buona in realtà perché io non penso di aver frequentato altri siti su cui acquistare roba ma niente fatemi sapere voi invece quali sono le vostre esperienze traumatiche sia in fumetteria sia con gli acquisti online che ne so consigliate magari nei commenti anche voi quali fumetterie frequentare piuttosto che quali siti ispezionare con maggiore attenzione e niente vi ricordo di lasciare un like se questo video vi è piaciuto di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i link per seguire Maransi su Facebook su Instagram e su Telegram detto ciao io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video bye bye